Oggi è il giorno che milioni di fan Nintendo stavano aspettando. Alle 16 ore italiana arriverà infatti il primo trailer ufficiale della nuova console della casa di Kyoto, nome in codice Project NX. Il breve video della durata di circa 3 minuti ci permetterà di scoprire con tutta probabilità il nome ufficiale della piattaforma, ma anche il suo design e speriamo persino la finestra di lancio, che molte voci vedono fissata per marzo 2017. Si tratta di una strategia di comunicazione molto molto stravagante. Non ci sarà infatti una conferenza stampa e l'annuncio dell'arrivo di questo trailer è stato diffuso attraverso il profilo Twitter della compagnia. Una strategia sopra le righe e sicuramente coraggiosa, proprio quello che ci si aspetterebbe da Nintendo. Ricordiamo che gli ultimi rumor vedono Project NX come una piattaforma ibrida a metà strada fra console casalinga e portatile e basata su un'architettura centralizzata attorno ad un chip Tegra di Nvidia. Per sapere se questi rumor sono veritieri non ci resta che attendere le 16, le 4 di pomeriggio, ora italiana. Noi di Avriai.it seguiremo l'evento con uno streaming ufficiale, quindi potete passare a trovarci su Twitch per vedere insieme a noi il trailer e poi partecipare ad una sessione di domande e risposte. Vi ricordiamo anche di iscrivervi al nostro canale per restare sempre aggiornati su Project NX e su tutte le novità della giornata, che con il trailer d'annuncio di Red Dead Redemption 2 sicuramente non saranno poche. Grazie.